Noi abbiamo sempre detto che il nostro palinsesto deve essere caratterizzato da un mix di prodotto nel quale ci siano tutti i generi perché siamo una rete generalista e quindi in realtà la forte spinta al prodotto informativo resta ma resta anche un forte impegno per la serialità sia per la serialità molto popolare come quella delle shop sia per la serialità così alta come è rappresentata adesso da Dawn Fonetti però come giustamente lei diceva questo è l'inizio di una stagione 2014 nel quale avremo molte proposte da fare al pubblico di prodotti seriali d'acquisto che acquistiamo e che stiamo acquistando su tutti i mercati la prima che posso già dire sarà già a gennaio e saranno tre serate di genere completamente diverso perché è un chiamiamolo western moderno, non so Carlo se si può dire così che è Hatfield Necoils e prodotto anche questo di grandissima qualità in tutto altro mondo ovviamente però molto bello anche questo sarà la nostra prima offerta e altri prodotti seguiranno di altissimo livello io non credo sia il caso adesso qui di anticiparlo ma sicuramente vi posso dire che la nostra stagione 2014 sarà caratterizzata da una offerta molto buona di fiction europea di period drama come questi e anche poi di fiction americana come questa è una tradizione che abbiamo sempre avuto e continuiamo con la serività diciamo poliziesca americana